Stessa piazza, stesso palco, ma con una parentesi di quattro anni, quella forzata prodotta dalla pandemia. Finalmente, recuperati entusiasmo ed energie, i Colli Senza Frontiere sono tornati, tutti e otto, certo, ma soprattutto uno, quello che ieri si è aggiudicato la vittoria della 22esima edizione, Colle Caprino. La carmessa era iniziata venerdì con la presentazione e la benedizione delle squadre in Largo Madonna, poi il teatro dialettale, gli stand gastronomici e la musica, e due giorni fittissimi di gare, tra tornei di carte, caccia al tesoro e giochi di abilità. Così il palio che mette in competizione le rappresentative degli otto colli di Pescara è tornato a coinvolgere l'intero quartiere. 12 giocatori per ogni squadra, sia maschi che femmine, sono stati impegnati in prove sempre divertenti e adatte a tutte le età. Nel 2019 erano stati i celesti di Colle Scorrano ad aggiudicarsi la vittoria, mentre quest'anno il trofeo, la scultura ideata da Pino Dolente, è passato a Colle Caprino, che lo terrà in amorevole custodia fino alla prossima edizione. La competizione non manca, si combatte duramente per portare in vetta il proprio Colle di riferimento, ma ci si sente comunque parte di un unico gruppo e di una realtà ormai storica, visto che la manifestazione è nata nel 1996 per volere e idea dell'Associazione Castellammare in Festa, affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale e presieduta oggi da Federica Mambella. Grazie di essere qui con noi, buon divertimento. Tra i soci fondatori dell'Associazione, anche l'attuale vice sindaco di Pescara, Maria Rita Carota, tuttora componente del direttivo. Fa parte proprio della tradizione della nostra città.